Con Marika Galiffa, dietro l'organizzazione del Carnevale di Alba, che rappresenta poi una delle tradizioni di questa cittadina, c'è un grande lavoro, un grande impegno, insomma, che inizia con diversi mesi di anticipo rispetto a quello che è l'evento. Sì, assolutamente sì. Il Carnevale non è semplicemente la sera del Carnevale, il giorno della festa, bensì è un insieme di momenti che la cittadinanza di Alba Adriatica vive. Il Carnevale è un momento di aggregazione all'interno del paese, basti pensare a quante sere abbiamo passato insieme ai nostri concittadini proprio nella creazione delle maschere. In queste sere, negli ultimi mesi, ci siamo visti nelle cantine, nei sottoscala, nei giardini, per creare proprio le maschere che potete ammirare in questo Carnevale. E quello del Carnevale è una tradizione, insomma, che va avanti da tanti anni? Sì, assolutamente sì. Il Carnevale estivo dura da 31 anni, quindi è una tradizione che noi vogliamo portare avanti, è una tradizione da continuare a coltivare proprio nel tessuto albense. E dietro all'organizzazione del Carnevale c'è l'impegno di tanti, no? Sì, assolutamente sì. C'è soprattutto l'impegno dei cittadini di Alba Adriatica che sono proprio chiamati in causa. Innanzitutto ringraziamo soprattutto l'amministrazione comunale che anche quest'anno ci ha accordato la fiducia. e ringrazio l'assessore Tribuiano.